buongiorno carissimi amici oggi 27 ottobre 2017 e in questo momento ci troviamo qua davanti a una porta della cgl siamo a padova però ragazzi il marvi non è venuto per la cgl ma è semplicemente venuto per la fiera auto d'epoca consueto annuale di padova e niente il primo avvistamento qua di auto d'epoca che ho trovato appena fuori dalla stazione è proprio questo questo maggiolino che giustamente il marvin dice lo mettiamo subito nell'albo dei ricordi primo avvistamento va va sempre va sempre appunto documentato niente mi sembra un buon maggiolino tenuto abbastanza bene il paraulti avrebbe bisogno di qualche punto lucidata da tracce così leggere di ruggine però niente ragazzi l'importante che insomma c'è è operativo eccolo qua vecchio maggiolino ecco già le persone già iniziano a guardarmi d'altronde siamo qua nei parcheggi insomma vedono uno che parla un po da solo dicono ma chi è un giornalista o un folle probabilmente è secondo il folle e niente ragazzi eccolo qua rendiamo un'ora e qual al vecchio maggiolino qua e insomma il proprietario si vedrà il suo maggiolino un giorno in youtube eccolo qua qualche dettaglio e niente probabilmente si chiama camillo ciao camillo guarda qua il tuo maggiolino c'è passato il marvin e niente ragazzi è solo l'inizio di uno strepitoso marvin tour credo a più che marvin tour diciamo una giornata impegnativa qua per voi appassionati di auto d'epoca ragazzi ciao a tutti e a presto ciao a tutti ciao a tutti